Siamo nella Sala Coppe della Polisportiva Nikè per la serata finale della seconda edizione della Summer Cup di Calciotto con i due organizzatori Davide Avaiano e Mimo Corso che ci riepilogano le tappe salienti di questa manifestazione che con grande impegno da parte vostra è giunta positivamente a conclusione. Sì, è giunta a conclusione, diciamo che come l'anno scorso ci sono state le sorprese quindi si conferma edizione torneo di sorprese, è il nostro. Quest'anno purtroppo abbiamo avuto qualche difficoltà non prevista legata a troppe partite che purtroppo non si sono disputate però diciamo che grazie alla disponibilità un po' di tutti i ragazzi e anche un po' mi prendo qualche merito alla nostra organizzazione siamo riusciti a sopperire quindi tutto sommato il giudizio è positivo. Quest'anno quindi nessuna sorpresa finale nonostante diciamo le premesse? Quest'anno no, anche se i ragazzi, la scuola di Vincenzo D'Arienzo che è arrivata in finale sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Speravo in qualcosa in più da parte dell'Olympic o della scuola di Andrea Rega però il calciotto è uno sport diverso dal calcetto e dal calcio 11 quindi le sorprese sono dietro l'angolo. Stasera c'è stata questa finale, il risultato finale è stato di 4-0 quindi può sembrare una finale diciamo poi anche dalla sintesi che vedrete una finale già scritta però invece i ragazzi hanno lottato fino alla fine quindi va dato il merito e secondo me l'Atletico Milfao e la scuola di Vincenzo hanno meritato pienamente il secondo posto visto l'impegno e soprattutto il cuore che ci hanno messo in tutta la manifestazione perché erano sempre 12-13 sul campo, compatti, urlavano un po' troppo però ci hanno creduto fino alla fine quindi è giusto che loro lasciano questa manifestazione con un premio. Non sono mancati anche quest'anno il premio Fair Play e quello innovativo di squadra ignorante, molto ambito. Il premio a squadra ignorante sta avendo un grandissimo successo, ricevo numerose chiamate di squadre che volevano sapere se erano in lizza per questo premio quest'anno l'ha vinto la squadra di Andrea Rega, l'anno scorso lo vinse Alessio Romano Il Fair Play noi ci teniamo molto, è un torneo che non ha nulla a che vedere, lo dico e lo ribadisco sempre con il Santa Teresa con il torneo che hanno fatto giù alla Seguia perché quelli sono tornei di un certo livello, livello alto non voglio sminuire il mio torneo, però questo è un torneo di amici, un torneo dove tutti i ragazzi giocano, si divertono anche i premi non sono esorbitanti per il semplice fatto che non abbiamo grandi sponsor alle spalle anche cioè facciamo tutto tra di noi, diciamo inter nostro, quindi tutto quello che facciamo e che riusciamo a dare veramente è frutto del sacrificio. Come diceva Davide quest'anno abbiamo avuto 8 partite non disputate che su una quarantina di partite sono, diciamo sono, non dico un danno, però sono un qualcosa che l'organizzazione ha dovuto sopperire in altre maniere, a volte arbitrando noi in primis le partite, a volte parlando con i ragazzi cercando di far capire, anche abbassando il monte premi che inizialmente era di 1.500 siamo riusciti diciamo a rientrare, l'importante è che tutti sono divertiti il premio fair play l'ha vinto Domenico Barbaria, un'altra squadra nuova quest'anno una squadra correttissima con l'ex mister dell'Ombed Daniela Picella ti ripeto, sono soddisfatto perché tra mille difficoltà quando poi riesce ad arrivare alla fine non dico che è più bello, però fa capire che è gratificante che i ragazzi ci hanno dato proprio una mano perché questo è un torneo dove io e Davide siamo gli organizzatori, ma poi diciamo i protagonisti sono i ragazzi e loro ci hanno dato una grossa mano a portarlo a termine fino alla fine ti ripeto, Salerno è piena di tornei, di un certo livello ed è giusto che ci siano questo è un torneo per ragazzi diciamo di seconda fascia, che non la prendono a male però è così e siamo riusciti ad arrivare fino alla fine e questo ci gratifica sperando l'anno prossimo di ripetere l'edizione, di avere meno problemi e cercare sempre di migliorarla perché poi i ragazzi vogliono giocare, ma è anche giusto che quando giochino poi ottengano dei risultati e quindi è giusto migliorare se c'è qualcosa da migliorare Dal punto di vista tecnico abbiamo visto comunque la partecipazione al di là della squadra vincitore di numerosi ragazzi comunque di un certo livello da Andrea Gioia, il vice capo cannonieri, Antonio Ferrara, lo stesso Andrea Rega, Vitolo ma anche tanti altri ragazzi magari impegnati in campionati amatoriali tra questi c'è qualcuno che ti ha impressionato da esperto con occhio clinico Allora innanzitutto mi stai sopravvalutando, questo in primis no, rispetto all'anno scorso c'è stato un significativo miglioramento penso del livello generale delle squadre se ti dovessi indicare un nome onestamente non lo saprei dire però anche io sono sulla linea di Mimmo che insomma la C2A, no scusami Milfago è arrivato in finale onestamente mi ha sorpreso perché hanno sfruttato non avevano grosse individualità di squadra però questa voglia sempre di lottare, questo grande gruppo questo grande legame che c'è tra loro si è visto anche in campo quindi non ti saprei dare un nome onestamente Quindi un torneo comunque che raggruppa squadre di amici, collettivi quindi possiamo dare l'appuntamento al prossimo anno e nel frattempo invitare tutti a restare sintonizzati per le attività della Polisportiva Nikkei Assolutamente, noi rivolgiamo il nostro invito a partecipare all'anno prossimo ringraziamo, come ho fatto anche nella cimera di premiazione, gli arbitri sono la cosa più importante quest'anno abbiamo scelto Lopez e secondo me la scelta è stata vincente perché hanno fatto altri tornei su Salerno, dirigono il Santa Teresa hanno diretto alla grande il torneo Giola Seguoia hanno diretto alla grandissima con persone competenti, educate veramente sono un'associazione, quella di Massimo Amitrano che ringrazio pubblicamente che sono ragazzi con una mentalità da professionisti e questo ci tengo a sottolinearlo perché vengono da Pagani, Scafati, Nocera, Napoli veramente venivano da qualsiasi posto della provincia di Salerno e di Napoli per venire ad arbitrare anche a volte una partita sola quindi veramente voglio ringraziare loro la Polisportiva Nikkei quest'anno diciamo riparte sperando di ripartire dove aveva lasciato abbiamo dato tre ragazzi 2003 alla Salernitana speriamo che prima o poi riescano ad emergere siamo, come vedi, la struttura è un po' messa sotto sopra perché il presidente Nando Di Francesco ha investito ancora quest'anno nella Polisportiva ha rifatto la sala fitness, la sala danza la scuola calcio verrà gestita in prima persona da Marco Ciardiello abbiamo vari progetti in porto noi fortunatamente siamo una scuola calcio che da quando è nata dal 2002 ha sempre avuto un suo, diciamo, una buona affluenza da parte dei ragazzi è sempre rimasta costante negli anni a differenza di altre scuole calcio che sono nate sono, diciamo, sono scomparse, hanno fatto fusioni o altro noi siamo costanti nei nostri 15 anni cercheremo di migliorare quest'anno ancora di più perché se si può migliorare è giusto che si provi a migliorare Marco Ciardiello dirigerà in prima persona tutte le attività dal punto di vista della scuola calcio il presidente Nando Di Francesco dirigerà in prima persona le attività collaterali, danza, ginnastica, ritmica, fitness, allenamento funzionale crossfit, judo veramente c'è una serie di progetti importanti per quest'anno per continuare, diciamo, a mantenerci sempre sulla cresta dell'onda perché poi, come si dice, chi non si aggiorna è perduto e noi dobbiamo aggiornarci continuamente perché la concorrenza è tanta qua e quindi dobbiamo sempre rimanere a un livello medio-alto perché secondo me la presportiva Niche tra le scuole calcio di Salerno e provincia può vantare un livello medio-alto tra gli istruttori e tutte le componenti di cui la gestiscono dal custode, alla segretaria, al barista siamo, secondo me, sulla zona siamo e potremo diventare ancora più forti Perfetto, allora l'anno prossimo La pizzeria salernitana vince la seconda edizione della Summer Cup Gloria per Antonio Cagliardi che si aggiudica anche il titolo di capo cannoniere sul rettilineo finale con un ricorre alla fine Eh sì, bisogna ringraziare i miei compagni che hanno fatto la maggior parte del lavoro loro Eh, che dire Parola a Gigino Rabona Che ha contribuito a Sunday Call a questa vittoria Insieme abbiamo sempre giocato bene ma il più del lavoro l'ha fatto la squadra e va bene così Quindi umiltà da parte di entrambi e arrivederci all'anno prossimo Eh sì, all'anno prossimo Sperando di biscare Ringraziamo il nostro capitano Melchiorre Perfetto Alla prossima Alla prossima Dai, 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 dai Dai, dai, dai